Avrebbero impiantato protesi giudicate dagli stessi medici di pessima qualità e reiterato gli interventi sullo stesso paziente fino a fare ipotizzare agli inquirenti il reato di lesioni volontarie. Emergono aspetti squallidi e inquietanti dalle intercettazioni tra i medici coinvolti nel sistema di corruzione messo a punto da una società di vendita all'ingrosso di articoli ortopedici con la complicità di chirurghi e medici di base ai quali andavano soldi e regali in cambio di protesi da fare acquistare e impiantare in cliniche private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In carcere sono finiti un responsabile commerciale e un agente della ditta Ceraver Italia e tre chirurghi. Sei ortopedici e tre medici di base sono agli arresti domiciliari mentre altri sei medici di base sono stati sospesi dall'attività. Le indagini sono partite dal policlinico di Monza che si è però detto estraneo ai fatti ma interessano strutture sanitarie in tutto il paese. I chirurghi spingevano gli ospedali ad acquistare solo protesi della società Ceraver con costi oscillanti tra 1500 e 2500 euro e in cambio ricevevano tra gli 80 e i 100 euro per ogni acquisto e una percentuale sui rimborsi previsti dal servizio sanitario. In modo da percepire il compenso corruttivo per il numero di protesi impiantate che ovviamente più cresceva il numero di pazienti e più crescevano i compensi corruttivi. In cambio di un compenso mensile di 300 euro e di una percentuale sulle visite specialistiche successive ai medici di base spettava invece il compito di reclutare i pazienti da indirizzare agli ortopedici i quali a loro volta disponevano l'impianto di protesi anche se non strettamente necessarie. Un'illecita corsia preferenziale era stata creata inoltre per portare in Lombardia pazienti di altre regioni più remunerativi perché le prestazioni sanitarie nei loro confronti non sono soggette a tetti sui rimborsi.